Ciao carissimo Nino, è un po' di tempo che non ci vediamo, eh? E sai, la vita da pensionato ormai non mi porta più tanto in giro. L'altro giorno è stato il tuo compleanno e ho visto tramite Facebook tutta quella miriade di auguri che hai ricevuto grazie alla brillante idea di tuo figlio di farsi inviare tutti questi video, unirli insieme e fatti adivisionare. Quest'alattino deciso, voglio farti una sorpresa. Sono qui, interamente di casa mia e voglio interpretare una canzone del grandissimo Adriano Cerventano. Il perché? Perché vorrei che tu coinvolgessi la tua cara moglie, Michelle, nonché mia costritta sia chiara, non dimentico e la ballaste insieme, sapendo che questa dedica arriva a voi da una persona che per quel poco che vi ho conosciuto vi ritiene una famiglia fantastica. Ecco a voi la mia dedica. Ecco a voi la mia costritta sia chiara, nonché, 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 nonché. Ecco a voi la mia costritta sia chiara, nonché, 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 nonché. Ecco a voi la mia costritta sia chiara, nonché, 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 non Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.